Musica Vi sarà capitato d'estate di avere voglia di un tiramisù, ma col caldo non è proprio dolce ideale. Basterà sostituire il mascarpone col gelato ed ecco a voi l'espresso tiramisù. Facciamolo! Per prima cosa bisogna assicurarsi di utilizzare un bicchiere freddo. In questo caso io l'ho raffreddato già in frizze. E adesso prepariamo due espressi nella tazza da cappuccino. Il primo espresso è pronto. Chiudiamo il barattolo di caffè e adesso ci servirà il frullatore. Aggiungiamo due palline di gelato alla crema. Due savoiardi, li spezziamo. E adesso due espressi. Non metto zucchero perché è già abbastanza dolce. Ecco qua, è pronto. E per ultimo una spolverata di polvere di cacao. Sembra proprio un vero tiramisù. Non ce n'è più, però te ne faccio un altro. Solo per te. La perdita. Grazie. Do c'è quello che vu Abena.